La rottura con Selena Gomez Teveknt felice con Bella di dopo la rottura con Selena Gomez Teveknt e Bella di di nuovo insieme? . Da settimane si parla di un possibile ritorno di fiamma tra Teveknt e Bella di. Alcune fonti in passato avevano rivelato al sito di Hollywood Life che il cantante avesse intenzione di recuperare il suo rapporto con l'ex fidanzata. . Lo stesso sito ha fatto sapere nelle ultime ore che i due sono diventati inseparabili dopo la rottura di Teveknt e Selena Gomez. . A quanto pare una fonte ha rivelato alla rivista Usvekli che i due hanno avuto modo di chiarirsi e recuperare la loro relazione tramite messaggi, telefonate e incontri. . Stando alla fonte i due sono tornati insieme anche se ad oggi non hanno ancora voluto rendere ufficiale la notizia tramite i social. . Bella e Teveknt pare abbiano sentito molto la mancanza l'una dell'altra e sono più innamorati che mai. . Teveknt e Selena Gomez sono davvero in buoni rapporti?. . Teveknt non ha perso tempo a consolarsi dopo la rottura con Selena Gomez. . Il cantante è stato visto mentre lasciava l'appartamento di Bella poco dopo che l'ex fidanzata è tornata insieme a Justin Bieber. . Eppure i fan non sono sembrati sorpresi, i due infatti si sono lasciati senza drammi e hanno rivelato di essere rimasti ottimi amici. . La Gomez ha dedicato all'ex fidanzato parole molto dolci, ma ad oggi non si capisce perché lui non la segua più su Instagram. . 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 Ciao